Buonasera a tutti e ben ritrovati al TG7 Basilicata. Un uomo di potenza ha ricevuto dalla polizia la notifica di un daspo di un anno. Quest'uomo aveva infatti preso parte ai disordini nel corso dell'incontro di calcio Spagna-Italia, valevole per la UEFA Nations League, tenutosi nei Paesi Bassi il 15 giugno 2023. Paura a Filiano per una serie di furti. Già lo scorso 28 ottobre ci fu un tentativo di svaliggiamento dell'ufficio postale. Il sindaco ha chiesto pertanto di potenziare gli organici delle forze dell'ordine, di attivare un dispositivo straordinario di sicurezza sul territorio. Wine Spectator, la prestigiosa rivista americana, ha presentato al Forum Wine to Wine di Verona la classifica delle 131 migliori cantine italiane. Tra le cantine lucani presenti nella lista, D'Angelo, Fucci, Crifalco. Tre cantine non sono poche, considerato che la Puglia ne vanta due, due anche la Sardegna, cinque il Friuli e il Trentino. Siamo quasi in chiusura, vediamo insieme il meteo per domani, cieli poco nuvolosi per l'intera giornata con addensamenti serali. Per questa sera è davvero tutto, io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e l'appuntamento a domani. Grazie e arrivederci!